I collegamenti con una delle capitali del nostro paese con cui la regione, come anche il sistema economico, ha fortissime relazioni era inevitabile che diventasse di attenzione speciale da parte nostra. Quindi esordiamo con questi voli di Blue Air, rincalziamo questa compagnia per aver scelto il nostro aeroporto per rafforzare la propria presenza in Italia. È una giovane compagnia che sta sfidando le innovazioni, è nata da non molti anni e purtuttavia è cresciuta significativamente a sei aeroporti dove ha basato i suoi aerei per l'Italia e l'aeroporto di Torino ad aver avuto la fortuna di questa opzione. Noi però siamo tra gli altri pochi aeroporti messi in rete in un network significativo nelle attività di questa compagnia nel nostro paese. Questo risultato va nella direzione anche della diversificazione degli operatori, dei vettori che operano sul nostro aeroporto che ricordo ancora di avere la seconda riflessione che volevo rappresentare, è un obiettivo irrinunciabile contenuto nel nostro piano industriale a suo tempo approvato anche dall'azionista di controllo. Partiamo oggi con 100 passeggeri a bordo su una capacità di 120 posti, quindi direi ottimo. Questo diventa un collegamento molto importante per noi per la strategia di sviluppo della compagnia in Italia. È stato richiesto tantissimo dalla comunità imprenditoriale abruzzese e crediamo che porterà dei buoni risultati anche dal punto di vista del flusso turistico che le due regioni italiane si potranno scambiare tra di loro. Grazie. 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 Grazie.